andrea boltrini sta per tornare ma senza chitarra signore e signori stiamo per tornare con nuovi video su youtube ma questa volta come ha detto damiano malori che era quello che faceva il diavoletto nel video non so se l'avete riconosciuto perché non si è più tagliati i capelli da quel video torniamo con video di che di cucina ricette romane soprattutto ma anche calciagione pesce insomma un po de tutto l'unica differenza fra quelli famosi che stanno in televisione quelle che faccio su internet che io non so capace a fare una mazza a parte queste queste cose può essere una battuta può essere vera insomma diciamo è tutto partito per gioco perché c'è questo canale su youtube ho fatto questo video a mandare una cicoria ripassata un amico poi ho preso gusto ho iniziato a fare tante ricette ma le tenevo tutte quante in privato ho fatto la promessa agli amici che si sono divertiti che si arrivava alla 100 le rendevo tutte pubbliche ci siamo quindi sto per tornare iscrivetevi al canale stavolta lo dico per la prima volta iscrivetevi non l'ho mai detto in una ricetta cliccate qua tosta sopra la campanella per farvi arrivare le notifiche insomma si arriva giù pure la madonna adesso sbrigamo a finì a brevissimo taglie tutti